Passeggiata a Portoscala, di nuovo alle prese con il maltempo e le mareggiate. In un mese di febbraio davvero singolare, segnato dall'alternarsi di giornate soleggiate e piovose, la zona a Portoscala sembra essere uno dei luoghi più colpiti dal maltempo. Siamo stati con le telecamere di TV City per documentare la situazione attuale. Come si può notare dalle immagini, i detriti, i massi e i rifiuti hanno completamente coperto la passeggiata, che è diventata praticamente inagibile. Le assi che compongono la passerella sono state ormai del tutto smantellate per far posto ad enormi macigni che hanno devastato l'opera pubblica costata 2 milioni di euro all'amministrazione comunale e finanziata con i fondi più Europa. Intanto i cavalloni, innescati dal vento incessante, portano a riva grossi cumuli di immondizia, un evento che ormai si verifica di consueto in questa zona. Sarà quindi fondamentale trovare delle corrette contromisure per evitare il verificarsi di queste situazioni di pericolo anche per i più piccoli, vista la presenza delle giostre.